Seguire le proprie ambizioni è l'istinto più naturale del mondo. Dedicare la propria esistenza al servizio degli altri e aggiungere al mondo se stessi dipende tutto da una scelta perché la strada che prendiamo è ciò che un giorno diventeremo. Se la tua scelta è aiutare gli altri scegli di diventare un ufficiale dei Carabinieri. Se hai compiuto 17 anni e ti stai diplomando Grazie a tutti.